Contestazione dei giornalisti contro il governo Johnson, che ha tentato di allontanare alcuni da un briefing perché giudicati politicamente scomodi. L'episodio è accaduto qualche giorno fa a Downing Street, quando alcuni reporter, tra cui quelli del Mirror e dell'Independent, sono stati esclusi dalla zona riservata alle domande per il Premier. La risposta è stata collettiva. Tutti i giornalisti presenti hanno deciso, per solidarietà, di lasciare la conferenza stampa, compresi i big della BBC, di Sky News, del Financial Times e del Guardian. Un gesto di protesta contro la politica di esclusione del governo per i giornalisti considerati scomodi e per la libertà di stampa. In molti hanno ricordato un episodio simile accaduto in America, dove l'amministrazione Trump ha escluso alcuni giornalisti per lo stesso motivo. Questa puntata è offerta da Aperi Events London, l'unico vero aperitivo italiano garantito da Bolt.